Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like. Inoltre, se vuoi puoi anche iscriverti al canale. L'Inter è in piena caccia per un nuovo rinforzo difensivo. Una necessità che si è fatta urgente dopo che Carlos Augusto è tornato sulla fascia sinistra, complice il grave infortunio di Tajon Buchanan. L'allenatore Simone Inzaghi desidera un giocatore esperto, già avvezzo al calcio italiano, come Riccardo Rodriguez. Tuttavia, Oktree, proprietario del club, propende per un investimento più significativo, puntando su un calciatore che possa crescere e diventare una colonna portante del futuro. Kevin Danso, il nome caldo per la difesa dell'Inter. In questo contesto emerge nuovamente il nome di Kevin Danso, difensore centrale austriaco del Lens, Già accostato all'Inter nelle scorse settimane, Danso potrebbe essere la soluzione ideale. Giovane e promettente, il classe 1998 potrebbe rappresentare una valida alternativa per il futuro, soprattutto considerando che sia a Cerbi che De Vrij, con i contratti in scadenza a giugno del prossimo anno, non sono più nel fiore degli anni. La valutazione di Kevin Danso si attesta sui 20-25 milioni di euro, una cifra importante ma giustificata dalle sue qualità. La strategia dell'Inter sarebbe di proporre un prestito oneroso di 7-8 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 13 milioni più bonus. Questa mossa permetterebbe ai nerazzurri di dilazionare l'investimento, mantenendo al contempo la flessibilità economica. Cosa ne pensate, tifosi nerazzurri? Kevin Danso può essere il rinforzo giusto per la nostra difesa? Lasciate un commento con la vostra opinione e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime novità di mercato dell'Inter. Forza Inter!